Buonasera Grazie Noi siamo sempre qua invece Non ci muoviamo Allora Siamo a Tokyo Nell'estate del 1935 Fate mente locale Siamo fra le due guerre Ma la prima si sta già allontanando Nel tempo E la seconda invece è già molto vicina Il mondo sta già precipitando Verso la seconda guerra mondiale Siamo a Tokyo nell'estate del 1935 In Italia C'è Mussolini Al culmine della sua popolarità In Germania c'è Hitler In Unione Sovietica c'è Stalin Negli Stati Uniti c'è Roosevelt E si sta cominciando a intravedere La fine della grande crisi In Giappone succedono cose Che agli occhi degli occidentali Sono molto strane Un giorno di luglio del 1935 Un certo tenente colonnello Aizawa Arriva a Tokyo In treno Dalla cittadina Dove si trova in guarnigione Va al ministero della guerra Cerca l'ufficio Di un funzionario del ministero Il generale Nagata Entra nell'ufficio Tira fuori la sciabola E ammazza il generale Nagata Al processo Il tenente colonnello Aizawa Dirà Che si vergogna Di una cosa sola Di non essere riuscito A ucciderlo Con un solo colpo di spada Come dovrebbe fare Un samurai Ben addestrato Al processo Emerge Che questo omicidio Al ministero della guerra Giapponese Non è una questione Privata Ma ha a che fare Con un conflitto Che sta spaccando L'esercito giapponese C'è un conflitto Tra i vecchi generali Al potere Moderati Legati Ai grandi Trust Industriali E finanziari Giapponesi E tutta una generazione Di giovani ufficiali Spesso di origine contadina O comunque modesta Estremisti Con forti simpatie fasciste In Giappone c'è una tradizione Di conflitti di questo genere C'è un termine In giapponese Che risale al quindicesimo secolo Il Gekokujo Che vuol dire Il rovesciamento Degli anziani Da parte dei giovani In Giappone sta succedendo questo I giovani fremono E vogliono prendere il potere Il processo del tenente colonnello Aizawa Per omicidio Dura molti mesi Durante questo processo Un bel giorno Nel febbraio del 36 Un gruppo di giovani ufficiali Fa uscire i soldati Dalle caserme Occupa Il ministero della guerra Il parlamento La sede della polizia Attacca Le case Del primo ministro E di una serie di ministri Due ministri Vengono ammazzati In casa loro Il presidente del consiglio Si salva solo Perché i giovani ufficiali Che gli rompono In casa sua Trovano suo cognato Lo scambiano Per il padrone di casa E lo ammazzano Dopodiché I giovani ufficiali Ribelli Dichiarano Che loro Sono scesi in campo Per senso del dovere Nei confronti Dell'imperatore E non fanno nient'altro Come se si aspettassero Che l'imperatore Hirohito Intervenga In loro favore Il governo Per due giorni Negozia Coi ribelli Come se li riconoscesse Come un interlocutore Nel frattempo Fa circondare Tutti gli edifici Occupati Dai militari Ribelli Li fa circondare Soprattutto da truppe Della marina Tutti sanno Che in Giappone La marina E l'esercito Si odiano Dopo tre giorni I ribelli Si arrendono La maggior parte Vengono processati Condannati a morte E giustiziati I governi occidentali Fanno molta Ecco Io adesso non mi fermo A chiedervi Quanto vi è chiaro Cosa stava succedendo In Giappone In quel momento Ai governi occidentali Non è chiaro Per niente Nessuno ci capisce niente Il Giappone È un paese lontano Complicato Nessuno conosce La lingua È un paese Impenetrabile Che comunica Poco all'esterno E non ci sono Specialisti In occidente O pochissimi Che conoscono Le dinamiche interne Di questa società In crisi Anche i giornalisti Europei A Tokyo Che già sono pochi Brancolano Nel buio C'è un solo giornalista Che è capace Di spiegare Cosa succede È un giornalista Tedesco Accreditato A Tokyo Da un paio D'anni Membro Del partito Nazista In ottimi Rapporti Con la sua Ambasciata E che ha Una conoscenza Stranamente Approfondita Della politica Giapponese Questo giornalista Dopo l'insurrezione Dei giovani Ufficiali Pubblica In Germania Un grosso Manda In Germania Da Tokyo Un grosso Articolo In cui spiega In modo efficace Queste dinamiche Complicate Questa lotta Di classe Di generazione All'interno Dell'esercito L'articolo Ha un grande successo Viene riprodotto In tutto il mondo Perfino La Pravda A Mosca Lo traduce In russo Al giornalista Gli amici Fanno i complimenti Sei diventato Veramente Famoso In tutto il mondo Sei l'esperto Di Giappone Perfino Per quei comunisti A Mosca Il giornalista Ride Ma in cuor suo E furibondo Quella sera Va a trovare Un altro tedesco Un industriale Un piccolo Industriale Tedesco Stabilito A Tokyo Che abita In un soborgo Di Tokyo L'industriale In casa Tiene nascosta Una radio Ricce trasmittente Che è in grado Di trasmettere Fino in Siberia Da dove la trasmissione Viene poi raccolta E rimandata A Mosca Il giornalista Chiama Mosca E dice Ma non sarete mica Impazziti Che pubblicate I miei articoli Sulla Pravda Che non succeda più Perché nessuno Deve immaginare Che c'è un qualche Collegamento Fra me E l'Unione Sovietica Il giornalista Si chiamava Richard Sorge Era iscritto Al partito Comunista Dal 1918 Ed era a capo Di una rete Di spie Piazzata A Tokyo Dal servizio Informazioni Dell'Armata Rossa Una rete Di spie Che probabilmente Fra tanti Gruppi Di spie Che hanno Operato Durante la Prima e durante La seconda guerra mondiale E forse quella Che ha influenzato Più direttamente L'esito Della seconda guerra mondiale Ed è Del dottor Sorge E della sua Rete di spie Che io proverò A raccontarvi Questa sera Richard Sorge Era figlio Di un ingegnere Tedesco E di una Madre russa Al liceo A Berlino Era il primo Della classe In tutte le materie Uno di quelli Che ai compagni Come dire In genere Non stanno Proprio Simpaticissimi I compagni Al liceo L'avevano Soprannominato Il primo ministro Però Però Come tutti i giovani Studenti tedeschi Della sua generazione Nati alla fine dell'ottocento Era un bravo Patriota tedesco E allo scoppio Della prima guerra mondiale Si era ruolato Volontario E si era fatto Quattro anni Di guerra Al fronte Era stato ferito Tre volte Alle gambe Alla fine Molto gravemente Per cui è rimasto Leggermente zoppo Per tutta la vita E Come dire E come tanti altri Durante la guerra Richard Sorge Era cambiato Aveva incontrato Gente che prima Un ragazzo Borghese come lui Non avrebbe mai incontrato Pacifisti Socialdemocratici Comunisti Ed era diventato Comunista anche lui Forse il fatto Che aveva perso Due fratelli In guerra Un pochino Anche avrà contato Nell'orientarlo In una certa direzione Fatto sta Che subito dopo La fine della guerra Richard Sorge Ventenne Si iscrive Al partito comunista L'anno dopo Si laurea In scienze politiche Ed ora in poi Sarà il dottor Sorge A questo punto È già schedato Dalla polizia tedesca Come agitatore Comunista Sottolineo Questo aspetto Perché Come vedremo Fra poco Dieci anni dopo Alla polizia tedesca Nessuno si ricordava Più di lui La polizia I tedeschi Non sono sempre Così efficienti Come a volte Ci immaginiamo E questo è un caso Proprio clamoroso Da questo punto di vista Si erano persi La schedatura Perché nel 1920 Lo sapevano benissimo Che questo giovane Dottor Sorge Era un comunista Dunque i tedeschi Se lo dimenticano I sovietici Invece lo notano E a un certo punto Lui parla anche russo C'ha la mamma russa E a un certo punto Quindi lo invitano A Mosca A lavorare Per il Comintern Per l'organizzazione Che coordina Tutti i partiti Comunisti Del mondo Accetta Nel 1925 Il dottor Sorge A 29 anni Lascia la Germania E si stabilisce A Mosca All'inizio Alloggia Al famoso Hotel Lux L'hotel riservato Ai comunisti Stranieri Dove alloggiava Anche Togliatti Dove alloggiavano Tanti che poi Hanno fatto Una brutta fine In quello stesso anno Prende La cittadinanza Sovietica La tessera Del partito Comunista Sovietico Si è portato Dietro la moglie Cristiane Una moglie Tedesca Che era la moglie Di uno dei suoi professori All'università E ha piantato Il marito Per mettersi con lui Se la porta dietro In Unione Sovietica Però poi In Unione Sovietica Le cose non vanno Tanto bene A Cristiane Non piace Insomma Un bel momento Lei lo pianta E torna in Germania Esce dalla nostra storia Cristiane Ma io l'ho voluta citare Perché lei ha lasciato Un commento Su Richard Sorge Che è molto istruttivo A Cristiane Tanti anni dopo Hanno poi chiesto Di questa sua storia Con lo studente Di suo marito E lui Che l'ha sedotta E Cristiane Dice Lei lo chiama Col diminutivo Richard Da bambino Quando imparava A parlare Faceva fatica A pronunciare Il suo nome Anziché dire Richard Diceva Icca Ed allora In famiglia L'hanno sempre chiamato Icca Cristiane dice Icca Non mi ha mica sedotto lui No no Sono io Che mi sono innamorata Icca Non aveva bisogno Di fare la corte A nessuno Tutti accorrevano Intorno a lui Uomini e donne Allora Negli anni venti L'uomo Che piaceva a tutti E che affascinava a tutti Viene mandato Più volte In missione All'estero Per conto Del Comintern Fra i portuali In Scandinavia Fra i minatori In Inghilterra E poi nel 1929 Il suo destino Cambia E' convocato Nell'ufficio Del generale Jan Karlovic Berzin Comandante Della quarta sezione Del servizio segreto Dell'armata rossa La sezione Che si occupa Di creare Reti di agenti All'estero Il generale Berzin Propone Al dottor Sorge Di andare A impiantare Una rete di spie In Cina A Shanghai 1929 La Cina La Cina è un paese In ebollizione In teoria Comanda Chiang Kai-shek Ma in realtà Gran parte del paese E' in mano Ai signori della guerra C'è un fortissimo Movimento comunista Clandestino E ci sono i giapponesi Ai confini Che aspettano Solo l'occasione Per cominciare L'invasione Della Cina Mosca avrebbe Un gran bisogno Di informazioni Sulla Cina Ma non ha Nessun modo Legale di averle Non c'è nemmeno Un consolato Sovietico In Cina E Chiang Kai-shek Ammazza Tutti i comunisti Su cui riesce A mettere le mani Il generale Berzin Propone A Sorge Di andare Lì In un paese Del genere A vedere Se è possibile Mettere in piedi Una rete di spie comuniste Il dottor Sorge Accetta Va in Cina Presentandosi Come giornalista Che intende fare Dei reportage E li fa Effettivamente Si sistema A Shanghai Io qui Non la faccio lunga Quando preparavo Questa lezione Mi son detto Di Shanghai Gli parlerò per dieci minuti Perché è troppo affascinante Invece no Neanche un minuto Perché non ho tempo Ma Immaginate Questa città Che è sotto sovranità cinese In teoria Ma in realtà Mezza Shanghai Sono concessioni Occidentali Governate E con poliziotti Dei paesi occidentali In particolare C'è una grossa concessione Francese Dove comanda La polizia francese E in più Ci sono i giapponesi Subito fuori Che minacciano Continuamente Di scatenare L'invasione I comunisti Clandestini Ricchi Industriali E finanzieri Occidentali Insomma Un mondo pazzesco Ristoranti Occidentali Librerie Tedesche In questo mondo Il dottor Sorge Rimane per tre anni Manda in Germania Meravigliosi articoli Di analisi Della situazione cinese Facendosi un nome Come grande esperto Di Medio Oriente Manda a Mosca Un'enorme quantità Di informazioni Torna a Mosca Nel 1932 Lo accolgono Con grandi strette Di mano E gli chiedono Se è pronto A ripartire Per un'altra missione Il dottor Sorge Dice Che prima Vorrebbe finire Il libro Che ha cominciato A scrivere Sull'agricoltura cinese Perché lui è uno Che si interessa Delle cose E ha l'anima Dello studioso In realtà È laureato In scienze politiche È un economista Quando sta in un paese Comincia a studiare Sta scrivendo un libro Sull'agricoltura cinese Che per piacere Lo lasciano in pace Finché non l'ha finito Il generale Jan Karlovic Berzin Gli dice Va bene Se proprio Devi finire il libro Eh Quanto pensi di me Non so Fatto sta Che dopo due mesi Lo richiamano E gli dicono Finito il libro Il libro Non è finito Ma il servizio segreto Dell'armata rossa Avrebbe una gran voglia Di rimandare in giro Il dottor Sorge E gli dicono Dove ti mandiamo La prossima volta Sorge scherzando Dice Ma Sono stato in Cina Potrei andare in Giappone Mentre ero lì a Shanghai Ho fatto un viaggetto A Tokyo Mi è piaciuto Interessante quel paese Potrei tornare lì Se proprio ci tenete Ma lui scherzava Qualche giorno dopo Il generale Berzin Lo richiama E gli dice Che ha raccontato La sua battuta Al comitato centrale Del partito comunista Sovietico Dove l'hanno presa Molto sul serio Avrebbero un gran bisogno Di agenti a Tokyo Tenete conto Di che paese È il Giappone In quel momento Al di là del fatto Che come vi ho già detto È un paese Poco trasparente Anzi impenetrabile Per gli occidentali È un paese In quel momento Xenofobo Apertamente Xenofobo Dove c'è Un'ossessione Maniacale Delle spie Dove ogni Occidente Ogni straniero È seguito Dalla polizia Anche da più Di una polizia Ci sono diverse Polizie segrete C'è il Kempeitai La polizia segreta Dell'esercito C'è la Tocco Che è l'equivalente Della Gestapo La polizia segreta Ed è un paese Ferocemente Anticomunista Ed è un paese Che confina Con l'Unione Sovietica Perché non dimentichiamoci Facciamo un rapido Raccordo temporale Ricordate La guerra russo Giapponese 1905 Sembra un'altra epoca Ma non erano passati Neanche 30 anni La guerra russo Giapponese Era cosa di ieri E i giapponesi Erano impiantati Saldamente In Corea In Manciuria E confinavano Con l'Unione Sovietica In Manciuria C'era un poderoso Esercito Giapponese L'armata Del Kwantung Che si comportava Quasi come una potenza Indipendente Faceva la sua politica Nei confronti Della Cina Della Unione Sovietica Obbediva A stento Agli ordini Del governo Giapponese Avete capito Che è un momento In cui Quando i generali Si stufano Del primo ministro In Giappone Lo fanno ammazzare E quindi A Mosca Hanno un gran bisogno Di sapere Cosa intende fare Il Giappone E non lo capisce Nessuno Hanno un gran bisogno Di sapere Quali sono Gli umori Dell'armata Del Kwantung Se il confine Della Mongolia E della Manciuria È in pericolo Oppure no E in Giappone L'Unione Sovietica Non ha neanche Un agente Non si sa neanche Se è possibile Averne Non si sa Se è possibile Che un radiotrasmittente Comunichi Tra il Giappone E l'Unione Sovietica Non ci ha mai provato Non si sa Se è possibile Reclutare Dei comunisti Giapponesi E convincerli A lavorare Per noi Non si sa niente Al Dottor Sorge Dicono Guarda Ci sarebbe da fare Questo esperimento Se ti va Vai lì Stai lì Un paio d'anni Con calma E vedi Se la cosa Si può fare Icca Dice che la cosa Gli interessa molto Lo stuzzica l'idea Ci andrà E dunque Bisogna mandare Il Dottor Sorge Da Mosca A Tokyo In un paese Ferocemente Anticomunista Che non ha relazioni Con l'Unione Sovietica Sorge È uno Che ha un principio Molto chiaro Meno bugie Dici Più è difficile Che ti scoprano Se è possibile Non ne devi proprio Dire di bugie Di conseguenza Lui andrà A Tokyo Nella persona Del Dottor Richard Sorge Giornalista Esperto Di Estremo Oriente C'è solo Il piccolo dettaglio Che non ci può andare Venendo dalla Russia Ovviamente Perciò torna A Berlino E il maggio 1933 Notate le date Hitler È al potere Da pochi mesi Però le relazioni Con l'Unione Sovietica Ci sono ancora Sono due paesi Come dire Considerati Iparia Della comunità Internazionale La Germania E l'Unione Sovietica Quindi hanno rapporti In quel momento Sorge può tornare A Berlino E arrivato a Berlino Chiede il passaporto Per il Giappone Ed essendo Già abituato A scrivere articoli Di giornale Sull'Oriente Fa il giro Dei giornali tedeschi Chiedendo Se sono interessati Ai suoi reportage Da Tokyo E trova diversi giornali Che sono interessati Fa anche un'altra cosa In Germania Viveva a quell'epoca Un personaggio curioso E molto famoso All'epoca Il professor Karl Haushofer Era uno studioso Di geopolitica E di strategia Di fama mondiale Una specie di Lutwak Per capirci Celeberrimo Era anche un militare Che nella prima guerra mondiale Era arrivato Al grado di generale Cosa che Lutwak Amerebbe molto Ma non credo Che l'abbiano mai fatto generale Ma invece Haushofer Si E questo in Germania Serve E' un personaggio Rispettatissimo Ed è un esperto Di Giappone Prima della prima guerra mondiale Il dottor Haushofer Era stato in Giappone Come istruttore Dell'esercito tedesco E lui sostiene Che se la Germania Ha perso la guerra La prima E' per l'ignoranza Dei tedeschi La loro ignoranza Della situazione Geopolitica mondiale Nella prima guerra mondiale La Germania E il Giappone Erano nemici Il professor Haushofer Teorizza Che la prossima volta Germania e Giappone Devono mettersi insieme Solo così Ce la possono fare Ma queste Non sono solo Le teorie Di un accademico Perché il caso Vuole che il professor Haushofer Sia un amico intimo Di Rudolf Hess Il braccio destro Di Hitler E quindi E' in grado Di influenzare Concretamente La politica Della Germania nazista Ecco Anche sul professor Haushofer Si potrebbe fare Una lezione intera E io adesso Comunque una piccola digressione La farò Perché è un personaggio Troppo affascinante Avete un po' capito Il tipo Un patriota tedesco Puro e duro Che sogna La rivincita Un piccolo problema Del professor Haushofer E che sua moglie Era mezzo ebrea E però Essendo amico intimo Di Rudolf Hess Può ottenere Per la moglie E per i figli Un certificato Di arianità Che li mette Al sicuro Quasi al sicuro Perché Vado un po' avanti Ma la storia E' tragica Ma appassionante Qualche anno dopo Nel 44 Uno dei figli Del professor Haushofer Giovane ufficiale Sarà coinvolto Nell'attentato Del 20 luglio Contro Hitler E fucilato E nel 45 Dopo la sconfitta Della Germania Il professor Haushofer E la sua moglie Mezza ebrea Si suicideranno Avvelenandosi Con l'arsenico Ma siamo ancora Molto lontani Mancano ancora 11 anni Siamo ancora Nel 33 E il giovane E brillante giornalista Il dottor Sorge Va a Monaco A trovare L'illustre Professor Haushofer Gli spiega Che lui sta andando A Tokyo E gli chiede Se è interessato E certo che è interessato E se può dargli Delle lettere di presentazione E certo che può dargliele Il professor Haushofer Conosce tutti Per cui Sorge Partirà da Berlino Con lettere di presentazione Di questo grande Intellettuale nazista Per l'ambasciatore Tedesco A Tokyo Ma non solo Siccome il viaggio Oggi si va in Giappone Con l'aereo Ci metti un po' di tempo Ma ci vai All'epoca Devi andare per nave In America Poi da lì Ecco insomma Il viaggio porterà Sorge Negli Stati Uniti Si fermerà lì per un po' Allora il professor Haushofer Gli chiede Ti interessa Una lettera di presentazione Per l'ambasciatore Giapponese A Washington E certo che mi interessa Quindi Sorge Spia sovietica Parte da Berlino Munito di lettere Di presentazione Di illustri Personalità naziste Per tutte le destinazioni Che gli possono interessare Il fatto del passaporto Lo preoccupava un po' di più Perché si tratta comunque Di andare alla polizia E come vi dicevo La polizia Dieci anni prima Sapeva benissimo Chi era Richard Sorge Schedato come comunista Sorge decide di rischiare Va alla polizia di Berlino Alla polizia di Berlino Non sanno chi sia Gli danno il passaporto Senza fare nessun problema Il regime si è appena installato La Gestapo è ancora in rodaggio Evidentemente Non hanno ancora Tanto affinato i sistemi Perciò gli danno Il passaporto Per il Giappone Il come dire Il giovane agitatore comunista Non esiste più Sotto lo stesso nome Adesso c'è un famoso Giornalista tedesco Che parte per Tokyo E già che c'è Prima di partire Fa domanda di iscrizione Al partito nazista E' talmente sicura di sé Che quando arriva a Tokyo Manda il suo primo messaggio A Mosca In cui dice Credo di riuscire A menarli tutti Per il naso E infatti ci riesce E nessuno è menato Per il naso Così completamente Come l'ambasciata tedesca Dovete immaginare La situazione Siamo nel 1933 Noi siamo abituati A pensare All'alleanza Tra Germania e Giappone Il patto d'acciaio Poi ci siamo entrati Anche noi Che Dio ci perdoni Il patto Roma-Berlino-Tokio Ecco Nel 1933 Non c'è ancora Niente del genere Per i giapponesi La Germania È un qualunque Paese europeo Ostile Sono stati nemici Nella prima guerra mondiale Voi immaginate I diplomatici tedeschi A Tokyo Che vivono In questo paese Che capiscono poco Anche loro E siamo nel 1933 In Germania È appena andato Al potere Hitler Il partito nazista I diplomatici tedeschi Di carriera Non sono tutti nazisti Anzi Sono lì a Tokyo Che cercano di capire Cosa sta succedendo A casa E gli arriva Piovuto dal cielo Questo dono del cielo Per l'appunto Questo compatriota Simpaticissimo Molto ben introdotto Ben informato Che arriva lì Racconta tutto E sa anche Molte cose del Giappone Molte più di quelle Che sanno i diplomatici tedeschi Distanza lì Lo adorano Gli chiedono Se ha bisogno di aiuto Vanno loro A chiederglielo Come diceva Cristiane Sua moglie Ikka Non ha bisogno Di chiedere niente Vanno tutti da lui Gli dicono Vuoi delle lettere Di presentazione Per il governo Giapponese Ce le ho già Dice Sorge E come mai le hai A Washington Sono andato All'ambasciata giapponese E mi hanno dato Delle lettere di presentazione All'ambasciata tedesca Spalancano gli occhi Questo è un uomo Meraviglioso Bisogna tenerselo caro E' anche un uomo fortunato Il dottor Sorge Una delle persone Per cui in Germania Gli hanno dato delle lettere E' un certo colonnello Ott Il colonnello Ott E' un istruttore Presso l'esercito giapponese Un tedesco Sorge va a trovarlo Anche qui Provate a immaginare Il colonnello Ott E la moglie Vivono In una città Di provincia Giapponese Dove non conoscono Nessuno E sono tenuti A distanza Arriva questo compatriota Da Berlino Allegro Famoso Ricco Oltretutto Simpaticissimo Diventano subito Amiconi Non è stato mai chiarito Neanche il processo Se ci sia anche una storia Fra il dottor Sorge E la moglie Del colonnello Ott Questa è una cosa Che è rimasta A livello di pettegolezzo Ma certamente Loro diventano amicissimi Giocano a scacchi Sono tutti e due Ex combattenti Nasce una solida Amicizia E perché vi dicevo Che il dottor Sorge È fortunato Sei mesi dopo Il colonnello Ott Viene promosso E trasferito A Tokyo All'ambasciata Come ha detto Militare dell'ambasciata Qualche anno dopo L'ambasciatore tedesco A Tokyo Viene trasferito A Berlino Alla Wilhelmstrasse Al ministero degli esteri Non hanno nessun esperto Di Giappone Devono sostituire L'ambasciatore Promuovono Il colonnello Ott Che quindi diventa Ambasciatore tedesco A Tokyo E il suo più grande E fedele amico È il dottor Sorge Di conseguenza Negli anni Capite Sono gli anni In cui la Germania E il Giappone Firmano il patto d'acciaio In quegli anni Guarda questo è veramente interessante Posso portarlo a casa Certo E a casa Sorge Fotografa A un certo punto L'ambasciatore Otto Chiede al suo amico Il dottor Sorge Ma e se ti nominassi Capo ufficio stampa Dell'ambasciata È l'unica volta In cui Sorge Si comporta in modo Un po' strano Perché sa benissimo Che assumere un ruolo Ufficiale All'ambasciata Bisognerà Comunicarlo Al ministero A Berlino E magari stavolta Al ministero A Berlino Vanno di nuovo Un po' A frugare Nel suo passato Questa cosa Non gli piace Quindi dice All'ambasciatore Otto Che lui Non ha voglia Di assumere Incarichi ufficiali Però continuerà A aiutarlo Con i dispacci segreti Come prima Assolutamente Otto Ci rimane un po' male Poi però Se ne fa una ragione Insomma Morale Una delle principali Fonti di informazione In tutti quegli anni Della spia sovietica Richard Sorge È l'ambasciata Sovietica Dove lui è a casa sua E vede tutto Sta molto simpatico Ai diplomatici Dell'ambasciata Anche perché Dal punto di vista Politico È di una straordinaria Abilità Abbiamo detto Che ha fatto domande Di iscrizione Al partito nazista E infatti Regolarmente Gli arriva a Tokyo La tessera Ah su questo C'è una cosa fantastica Che dimostra Che roba era Il partito nazista A Berlino In archivio Hanno trovato La scheda di iscrizione Di Richard Sorge Al partito nazista Nella sezione Dei residenti all'estero Tutto quello Che c'è scritto è Nome Richard Sorge Residenza Tokyo Cina Poi A matita Qualcuno Ha tirato un frego Su Cina E ha messo Giappone Questo è tutto Quello che il partito Nazista sa Del suo nuovo iscritto Ma a Tokyo Il dottor Sorge Che è un uomo Molto abile Che ha capito Che questi diplomatici Tedeschi Non sono nazisti Fanatici E lui fa Il nazista Però spiritoso Però critico Che fa anche Le battute Con cui si può Discorrere liberamente E ai diplomatici Tedeschi Piace da morire A un certo punto La sezione nazista Di Tokyo Vorrebbe nominare Sorge Direttore della sezione Lui ne parla All'ambasciatore Ott E l'ambasciatore Ott E scherzando Gli dice Beh Ogni tanto Un Führer di buonsenso Servirebbe nel partito Dopodiché Lui però Rifiuta la carica Perché appunto Preferisce E poi C'è la rete C'è la rete Degli agenti Giapponesi E qui bisogna Capirci Perché Sorge Ha bisogno Di agenti Giapponesi Quello che noi Chiamiamo spionaggio Anche oggi Consiste In gran parte Non nel Carpire Documenti Segreti Violando Casseforti E codici L'attività Dello spionaggio Anche oggi Consiste In parte In grossa parte Nel lavorare Su quelle Che loro In gergo Chiamano Le fonti Aperte Il che vuol dire I giornali Pubblicano Un sacco di roba I giornali Le riviste specializzate I rapporti Delle aziende Tutta roba Pubblica Ma È un enorme lavoro Leggersi tutto Paragonare Confrontare Verificare E stendere Dei rapporti Qualunque rete Di informatori Deve farlo In Giappone Negli anni Trenta Anche solo Fare questo lavoro Sulle cosiddette Fonti aperte Non è per niente Facile Intanto nessuno Sa bene il giapponese Neanche Sorge Lo sa bene Un po' Lo impara Ma Ma non solo Il Giappone Come vi dicevo È un paese Ossessionato Dalle spie Dove gli stranieri Sono seguiti E spiati Loro Appunto E dove Ai giornalai E ai librai È vietato Vendere agli stranieri Libri O riviste Che parlino Dei problemi Interni Del Giappone E anzi Se uno straniero Viene a interessarsi Di queste pubblicazioni È dovere Del libraio Denunciarlo Alla polizia Ne consegue Che anche soltanto Raccogliere Quelle informazioni Che per i giapponesi Sono di libero accesso Per uno straniero È difficile Quindi ci vogliono Dei giapponesi Ed è in questo senso Che intorno a Sorge Nasce Una vera e propria rete Primo Sorge era stato A Shanghai Per tre anni E a Shanghai Aveva conosciuto Dei giapponesi Alcuni di questi giapponesi Erano dei comunisti Con cui Sorge Sotto falso nome Aveva preso contatto E verificato Che sarebbero stati Disponibili A lavorare Per il comunismo Riprende contatto Con loro C'è tutta una parte Di cui volevo parlare Ma anche di quella Non parlerò Perché la storia È troppo lunga Delle tecniche Da romanzo Per cui Si fa sapere A una certa persona Che quel certo giorno Dovrà trovarsi Al parco di Nara Portando una cravatta verde Quando vedrà Un altro giapponese Che porta una cravatta Marrone E che ha In una tasca destra Una coppia Del giornale Dovrà dirgli Bel tempo Oggi Vero Allora Si siamo capiti In questo modo Sorghe Ricontatta Persone Che aveva conosciuto In precedenza Ve ne cito Solo una Perché è il più importante Diventa un po' L'alter ego Di Sorghe E anche al processo Avrà un grande ruolo È un giornalista A un certo punto Vi parlavo prima Dell'armata Del Quantung L'armata Giapponese In Manciuria Che si comporta Quasi come una potenza Indipendente E che è la principale Minaccia Sui confini Dell'Unione Sovietica L'armata Del Quantung Ovviamente Ha dei rapporti Molto stretti Con dei trust Finanziari E industriali Il principale Di questi Si chiama Le ferrovie Della Manciuria Meridionale Ozaki A un certo punto Viene nominato Capo ufficio stampa Delle ferrovie Della Manciuria Meridionale Il che vuol dire Essere a stretto Contatto Con i processi Decisionali Dell'armata Del Quantung E Ozaki In segreto Uomo noto Conosciuto Rispettato Famoso in Giappone In segreto È comunista E quando lo hanno Contattato Ha confermato Che lui È disposto A lavorare Per il Comintern E a fornire informazioni Altri giapponesi Comunisti Vengono scovati In quel mondo Interessante Che è il mondo Degli emigrati Giapponesi Negli Stati Uniti In California C'è una numerosa Comunità Di emigrati Giapponesi Sapete che Negli anni 20 e 30 Il partito Comunista Negli Stati Uniti È abbastanza Presente E verrà poi Spazzato via Dalla guerra E dal maccartismo Soprattutto Ma negli anni 20 e 30 C'è Per cui Molti Giapponesi Emigrati Negli Stati Uniti Sono diventati Comunisti Gli agenti Segreti Di Mosca Li vanno a cercare Li contattano E gli chiedono Se sono disposti A lavorare E più di uno È disposto A lavorare E a quel punto Lo rimandano In Giappone E lo mettono In contatto Col dottor Sorge Avrà moltissimi Agenti Alla fine Tutti lo fanno Per pura Convinzione ideale Perché soldi Ce ne è pochissimi E rischi enormi Fino alla fine Nessuno di loro Lo tradirà Ora la cosa Straordinaria È che a questo punto Noi abbiamo Questo personaggio Che vive totalmente Alla luce del sole E che in realtà Non viola Quasi nessuna Legge giapponese Certo Quando fotocopia Di nascosto I documenti Segreti Dell'ambasciata Tedesca Ai tedeschi Questo potrebbe dare Ma ai giapponesi Non gli frega Niente invece Non sta violando Una legge giapponese Tanto che quando Anni dopo Per anticipare La fine Verrà arrestato Non sarà neanche Ben chiaro Su che base Processarlo In realtà Ha violato Un'unica legge Proprio in quegli anni In Giappone È uscita Una nuova legge Che punisce Con la morte Chiunque comunichi Informazioni A un paese Comunista E su questa base Sarà poi possibile Ai magistrati Giapponesi Condannare Sorge Il quale invece Si limita A raccogliere Informazioni Le informazioni Si possono mandare Via microfilm Per corriere Si manda un corriere A Shanghai Come al solito Dove ci sono Occidentali Che vanno E vengono Grandi alberghi Per incontrarsi E anche lì E anche lì Gli incontri E Mosca Mosca Invece Vuole essere Tenuta Informata La situazione Sta cambiando Nel mondo La guerra È sempre più vicina Mosca È disperatamente Affamata Di informazioni Perciò Perciò ci vuole La radio E la radio Vuol dire Che ci vuole Un tecnico europeo L'unica persona Che Sorge Si è portato Dietro Poi lo farà Sostituire Con un altro Più bravo E che sarà Appunto Un membro Cruciale Della rete È il tecnico radio Tenete conto Che la radio È ancora abbastanza Agli inizi Non è una tecnologia Così padroneggiata Da tutti E qui ci vuole Invece un mago Il mago Lo trovano E anche lui Viene reclutato Con modalità Da romanzo È un altro Tedesco Che si chiama Max Clausen È un tedesco Di Hamburgo La città più rossa Della Germania È stato Radiotelegrafista Nell'esercito imperiale Durante la guerra Poi Poi si è imbarcato È uno di Hamburgo Si è imbarcato Sui pescherecci Come radiotelefonista E lì Sul peschereccio Un agente segreto Sovietico Lo contatta E gli chiede Se è sempre comunista E se è disposto A lavorare Per il comunismo Max Clausen Dice di sì Allora gli danno Un biglietto Di prima classe Per Mosca E un romanzo Di Thomas Mann E gli dicono Dentro il romanzo Troverai la tua destinazione Dentro il romanzo Ci sono delle sottolineature Che formano Un messaggio in codice Un codice Abbastanza facile Evidentemente Si sono detti Se non riesce A decifrarlo Non ci serve È inutile Se ci riesce Arrivato a Mosca Vedrà l'indirizzo A cui deve presentarsi Max Clausen In treno Prima classe Decifra Il messaggio Arriva a Mosca Ha un indirizzo Si presenta E viene assunto Gli fanno fare Un corso Da radiotelegrafista Di altissimo livello Diventa appunto Un mago Quando lo mandano a Tokyo Perché Sorge Si è stufato Del radiotelegrafista Che aveva Che aveva troppa paura Non trasmetteva mai E ne vuole un altro Max Clausen Si imbarca Con la moglie Per le spie Fa fino portarsi Dietro la moglie Provoca meno sospetti I membri europei Del gruppo di Sorge Hanno tutti la moglie Max Clausen Si imbarca Per Tokyo In valigia Ha in tutto e per tutto Come equipaggiamento Tecnico Due valvoline Sono il modello Delle altre che deve procurarsi Tutte le altre valvole E tutti gli altri elementi Per costruire la radio Se li compra a Tokyo Non nei negozi di radio Perché rischierebbe Di provocare sospetti Nei negozi di lampadine Ci mette tre mesi Per procurarsi Tutte le Lavorano sul lungo periodo Come vedete I servizi segreti sovietici In tre mesi Si procura tutte le componenti Costruisce Una trasmittente smontabile Che è in grado di smontare In cinque minuti E rimontare in dieci Che si porta dietro In una borsetta Per cui può trasmettere Da punti diversi Della città Da case diverse Di agenti Senza essere mai intercettato Naturalmente anche lui Ha bisogno di una copertura E lui è un operaio Allora gli inventano Un'azienda Max Clausen Si trasferisce a Tokyo Come piccolo industriale E apre una ditta Che fabbrica qualcosa Che neanch'io ho capito bene Cos'è Ma insomma Macchine specializzate Per fotografare Disegni industriali Comunque La copertura ufficiale È questa ditta Che prospera La ditta Fa un sacco di soldi Alla fine Avrà 14 dipendenti E questo è un guaio Perché verso la fine Max Clausen Che da operaio È diventato padroncino E sta facendo i soldi Comincia a avere Meno tempo Per fare la spia E comincia a trovare Che fare l'industria Di successo è molto più interessante Per cui negli ultimi tempi Oscilla un po' Anche se fino alla fine Andrà avanti E poi Mosca A un certo punto Fa un errore drammatico Siccome i soldi sono pochi A un certo punto Da Mosca dicono Beh Visto che Clausen Sta facendo così tanti soldi Con l'azienda Usate i suoi soldi E lui ci rimane male È proprio l'esempio classico Del proletario Che è diventato appunto Padrone Adesso insomma Però comunque Per il resto Va alla grande È un radiotelegrafista Espertissimo E lui è in grado Di trasmettere All'Unione Sovietica Da dove negli ultimi anni Quando il mondo Sta veramente precipitando Verso la guerra Dall'estate del 38 Da Mosca Gli fanno sapere Guardate voi Trasmettete quando volete Nel primo quarto d'ora Di ogni ora 24 ore su 24 Ci sarà qualcuno Sintonizzato Sulla vostra frequenza Per sentire Se avete qualcosa Da trasmettere E intanto Il dottor Sorge Fa la bella vita A Tokyo Perché è una persona Simpatica E di compagnia Lo conoscono tutti Vive alla giapponese Ha preso in affitto Una casetta Alla giapponese Col giardino Con una governante Giapponese Che gli prepara Da mangiare In casa si mette Il kimono Dorme sul tatami La casa La riempita di libri Quelli che riesce In un modo o nell'altro A procurarsi Sul Giappone Storia del Giappone Economia Alla fine Quando lo arrestano Gli trovano in casa Più di mille libri Sul Giappone Fa il bagno Tutti i giorni Nella tinozza di legno All'usanza giapponese I suoi amici Dell'ambasciata tedesca Sono un po' stupiti Perché questa cosa Di fare il bagno Tutti i giorni Tra gli europei Dell'epoca Non è assolutamente Venuta in mente a nessuno Ma lui vive Alla giapponese Di giorno Di notte Esce E va a bere Con gli amici tedeschi È un grandioso bevitore Il dottor Sorge E Tokyo È una città straordinaria Dove appunto Dominano la xenofobia E la polizia segreta Però è piena È piena di locali occidentali Ci sono ristoranti Per stranieri Dove le cameriere Giapponesi Si tingono i capelli Di biondo O di arancione Fino a quando La polizia segreta Non proibisce La pratica Antipatriottica Ci sono birrerie tedesche Con nomi come Loro del Reno Dove Sorge Spesso viene visto Ubriaco Fradicio In piena notte Con i suoi amici Dell'ambasciata tedesca Ci sono i ristoranti Giapponesi di lusso Con le geisce Quelli meno di lusso Con le ragazze Più facili Sorge passa le notti fuori Si ubriaca Va a letto con le ragazze E a un certo punto Se ne trova una fissa Si chiama Hanako E cameriera Per l'appunto All'Oro del Reno Diventa la sua amante E a questo punto Lui la tira fuori Dal ristorante Le chiede cosa vuole fare di bello E lui dice Io vorrei studiare lingue E lui le paga Gli studi di lingue Hanako è una Che è rimasta fedele a Sorge E non sapeva niente Della sua vera identità È rimasta fedele a lui Sempre Poi nel dopoguerra Racconterà spesso di lui Dice Hanako Sapevo benissimo Che non era innamorato di me Però era tanto gentile E lei era innamorata persa Invece In tutto questo c'è un problema Bere tanto Ha anche dei rischi Il dottor Sorge Beve veramente tanto E quando beve Fa chiasso E diventa anche brutale Tanto che le padrone di casa Della comunità europea Frase che in questo momento Mi rendo conto che suona male Delle piccole comunità Degli europei Che vivono a Tokyo Ecco Del dottor Sorge Cominciano a diffidare un po' È tanto amico Dei loro mariti Però invitarlo a cena Smettono Perché quando beve Diventa sgradevole Ed è perfino strano Che un uomo di quel calibro Abbia questa debolezza Solo che evidentemente La tensione Della sua doppia identità Era tale Che in qualche modo In qualche modo La devi scaricare E lui la scaricava bevendo C'è una donna Che l'aveva conosciuto A Berlino Da ragazzo E che lo incontra di nuovo Negli anni 30 A Tokyo E dice Lo avevo conosciuto Come uno studente Romantico E idealista Ma era diventato Un uomo violento Un forte bevitore Era ancora Un gran bell'uomo Ma gli zigomi E la bocca Si erano incavati Il naso Si era appuntito Era completamente Cambiato Di lì a poco Cambia ancora di più Perché un'altra passione Del dottor Sorge Sono le corse pazze In motocicletta Ha comprato Una moto Da Max Krausen E di notte Dopo aver bevuto Gira all'impazzata Per le strade di Tokyo Una notte Va a schiantarsi Dopo essersi Ubriacato fradicio Contro un muro Dell'ambasciata americana A Tokyo Ci sono i poliziotti Giapponesi Arrivano Lui fa appena in tempo A chiedere Che chiami Nel suo amico Max Krausen Lo porta in ospedale Arriva Max Krausen Esorge Fa in tempo A dargli le chiavi di casa Perché è un cittadino Tedesco importante L'ambasciata Andrà a chiudere casa E allora Krausen Deve arrivare prima Di quelli dell'ambasciata E pulire casa Che non ci siano Documenti compromettenti Fa appena in tempo A dargli le chiavi Poi sviene Quando poi si risveglia In ospedale Ha la mascella Fratturata Ha perso Una parte dei denti Un conoscente Dice che dopo Che esce dall'ospedale Le cicatrici Sul viso Lo facevano Rassomigliare A una maschera Teatrale Giapponese E davano Al suo viso Un'espressione Quasi demoniaca Ora Finora non sono entrato Nel dettaglio Delle informazioni Che Sorge E i suoi Hanno fornito A Mosca In quegli anni Ma ve l'ho detto Se c'è una rete di spie Che ha influenzato Il corso Della seconda guerra mondiale È quella di Sorge Quando lui è andato lì Il grande problema Per l'Unione Sovietica È avere informazioni Sul Giappone Sulla politica giapponese Però mentre Sorge È lì Nasce l'alleanza Fra Germania e Giappone Ed è un'alleanza Decisamente orientata Contro l'Unione Sovietica Tanto che si chiamerà Il patto Anticomintern Questa alleanza Fra Germania e Giappone Viene negoziata In totale segreto Tanto che da parte tedesca Perfino il ministero degli esteri Non è informato Negozia personalmente Il ministro degli esteri Von Ribbentrop Il suo ministero Non sa niente Nemmeno l'ambasciata tedesca A Tokyo Sa niente Di questo negoziato Per creare la nuova alleanza Fra Germania e Giappone A un certo punto L'ambasciatore Ott Ha sentore di qualche cosa Di questo negoziato E decide di scrivere A Berlino Dicendomi Fate la cortesia Di spiegare anche a me Che sono l'ambasciatore A Tokyo Se davvero Stiamo facendo L'alleanza Con il Giappone Però è una cosa Troppo grossa E troppo eccitato L'ambasciatore Ott Deve raccontarla A qualcuno Quindi la racconta Si deve espandere Si deve espandere Perché se no soffoca Ma in che direzione A nord Contro di noi Oppure contro la Cina Oppure contro l'America Nel Pacifico Contro le colonie inglesi e francesi Non lo sanno neanche i giapponesi Perché ci sono fazioni diverse L'armata del Quantung Preme per l'attacco a nord Contro l'Unione Sovietica Giusto in quel momento Come vi dicevo L'amico Ozaki Diventa consulente Delle ferrovie Della Manciuria Meridionale E quindi È informato direttamente Di tutto quello Che vuole fare L'armata del Quantung È in grado di mettere Le mani su documenti segreti Da cui risulta Tutto quello Che l'armata del Quantung Sa Sulle truppe sovietiche In Siberia E in Mongolia L'armata del Quantung A un certo punto Decide di provarci Sono convinti Che i sovietici Siano deboli Che i giapponesi Se provano a invadere La Mongolia Che è un paese indipendente Ma comunista E protetto dai sovietici Passeranno come nel burro Hanno informazioni precise I giapponesi Sulle forze sovietiche In quella zona Quello che non sanno È che Sorge Ha informato Mosca Che loro lo sanno E di conseguenza A Mosca Hanno avuto modo Di cambiare completamente Lo schieramento Delle loro forze In quella zona Sorge è anche riuscito Tramite i suoi agenti Giapponesi A mandare l'organigramma Completo Dell'armata del Quantung Risultato Nell'estate del 39 L'armata del Quantung Decide di fare Un esperimento È una di quelle cose Che fanno Senza neanche informare Il governo giapponese Glielo dicono dopo Sconfinano in Mongolia Ma non quattro gatti Sconfina un'armata In Mongolia Diverse divisioni E avanzano in Mongolia A questo punto scoppia Una vera e propria Guerra segreta Non dichiarata Che tutti sono d'accordo Di non comunicare al mondo Per cui nessuno Verrà a sapere niente Siamo nell'agosto del 39 Il mondo ha ben altro A cui pensare Sta scoppiando Hitler sta invadendo La Polonia Sta per invadere la Polonia In Mongolia I giapponesi avanzano E davanti a loro Le forze sovietiche Sono perfettamente Informate di tutto Grazie ai rapporti Di Sorge Al comando Delle forze sovietiche C'è un generale Che diventerà famoso Sei anni dopo Perché entrerà a Berlino Si chiama Zhukov In quel momento Non è ancora famoso E anzi Quello che fa In quel momento Non lo saprà nessuno Perché il mondo Non lo deve sapere Di questa piccola guerra In questa piccola guerra Il generale Zhukov Affronta le forze giapponesi Entrate in Mongolia Le circonda Le annienta A questo punto L'armata del Quantung Decide che forse Non è il caso Di fare la guerra Contra l'Unione Sovietica Tutto sommato È meglio invadere la Cina O fare altre cose E due Ma se il Giappone Si è rotto i denti E non ha più intenzione Di attaccare L'Unione Sovietica Hitler sì Che ha intenzione Di farlo E lo fa Nel giugno del 41 Sorge Ha avvertito Mosca Almeno un mese prima Questa è la cosa Più controversa Dell'intero servizio Che Sorge Ha reso All'Unione Sovietica Perché si sa Che Stalin Che è stato informato Non solo da lui Ma anche tramite Altri canali Che i nazisti Volevano invadere Perché c'erano Militari tedeschi Comunisti Che scappavano Attraversavano il confine Per avvertire Che l'operazione Barbarossa Stava per scattare Stalin era talmente Terrorizzato Da questa guerra Per cui sapeva Di non essere pronto Che non ha voluto Crederci Ed è questa appunto Forse l'informazione Di Sorge Che avrebbe potuto Essere vitale E che non è stata Creduta Tanto che Quando scatta L'operazione Barbarossa Come sapete I tedeschi All'inizio Sfondano Hanako L'amante di Sorge Ha raccontato Dopo la guerra Che un'unica volta Lo ha visto piangere Il giorno in cui La Germania Attaccò davvero L'Unione Sovietica E allora Lei gli chiese Perché era così sconvolto E Sorge rispose Perché sono solo Però non è ancora finita Perché adesso Che la Germania Sta avanzando Nell'Unione Sovietica Come nel burro Diretta a Mosca È particolarmente vitale Sapere se i giapponesi Non ci hanno ripensato E non intendono Attaccare anche loro Dalla Siberia In Giappone Si discute furiosamente La marina Vorrebbe attaccare a sud Vuole attaccare La flotta americana Per l'arbor Attaccare le colonie Inglesi e francesi In Indocina L'esercito Vuole continuare L'invasione della Cina L'armata del Quantung Vorrebbe attaccare L'Unione Sovietica Ma si è rotta i denti Prima E non ha più Tanta influenza politica Per quei In quei mesi Dell'estate Autunno del 41 Nei circoli governativi Giapponesi Si discute furiosamente E in quei circoli governativi Si muove un uomo Che conosce tutti Il suo parere Lo chiedono tutti E Ozaki Il quale poi Riferisce a Sorge Tutto quello che Sente E Sorge È in grado Di riferire a Mosca Che alla fine Il Giappone Ha deciso Attaccheranno a sud Nel Pacifico Attaccheranno a per l'arbor La Siberia È al sicuro E Stalin Può ritirare Le truppe Dall'estremo oriente E trasferirle A occidente Appena in tempo Per fermare I tedeschi Davanti a Mosca Nel dicembre del 41 E qui in realtà C'è anche qualcosa di più Perché in realtà I magistrati Che poco dopo Ci stiamo arrivando Abbiamo finito praticamente I magistrati Che interrogeranno Sorge e Ozaki Di lì a poco Si accorgeranno Che loro Non hanno soltanto Mandato informazioni A Mosca Ozaki Era un uomo Influente Consigliere del governo E Ozaki ha contribuito A far prendere Quella decisione A tutte le discussioni Riservatissime A cui partecipava Ozaki insisteva Attaccare l'Unione Sovietica È pericoloso Non conviene Molto meglio Attaccare gli americani I magistrati giapponesi Che li interrogano Dopo averli arrestati Rimangono sconvolti E Hanno quasi l'impressione Che la guerra del Giappone Contro l'America Sia stata Come dire Non dico provocata Ma insomma Questi maledetti comunisti Hanno aiutato A far andare le cose In quel modo E i magistrati giapponesi Si rizzano i capelli in testa All'idea di cosa direbbe Il paese Se sapesse Che questa guerra mortale In cui ci siamo impegnati Bene I comunisti Ci hanno menati Per il naso E ci hanno indotti A fare quello Che volevano loro Tanto che i magistrati giapponesi Lo dicono poi Nel dopoguerra Gli americani Noi abbiamo rinunciato A approfondire questo aspetto Perché avevamo paura Che nel paese Scoppiasse la rivoluzione Se si veniva a sapere Ecco a questo punto Sorge Ha la netta sensazione Di aver finito I nazisti Stanno invadendo Unione Sovietica Non c'è ancora stato L'attacco giapponese Per l'Arbor Ma ormai è deciso E il 15 ottobre Del 41 Sorge Trasmette Un messaggio a Mosca Chiedendo Se non pensano Che sarebbe più utile Che lui E Max Clausen Adesso fossero trasferiti In un altro paese Magari in Germania Sono tedeschi Tutti e due Lì potrebbero essere Molto utili Quello stesso giorno Viene arrestato Ozaki Tre giorni dopo Viene arrestato Sorge Clausen E tutti gli altri La rete di Sorge È caduta quasi per caso O meglio Era così estesa Che prima o poi Un filo I giapponesi Lo avrebbero trovato Ma lo trovano per caso E ci mettono Un sacco di tempo A seguirlo Due anni prima Nel novembre del 39 La gestapo giapponese La Tocco Aveva arrestato Un membro Del partito comunista Clandestino Arrestato Torturato Deve fare dei nomi Altri nomi di comunisti E questo fa un nome Di una donna Una certa signora Kitabayashi La quale era Un'emigrata in America Era vissuta a Los Angeles Poi è tornata in Giappone Lei è comunista La Tocco Mette sotto sorveglianza Questa vecchia signora Ormai un'anziana signora Lei è il marito Una coppia anziana Li sorvegliano Per due anni Sperando che capiti Chissà cosa Non prendono niente Dopo due anni Si stufano Li arrestano Siamo appunto Nell'autunno del 41 La signora Kitabayashi Arrestata Le dicono Adesso devi fare Dei nomi di comunisti E lei cerca Di ricordarsi Dice sì Quando ero in California C'era un giapponese Comunista Che conoscevo Si chiamava Miyagi La polizia segreta Giapponese Questo Miyagi Non l'ha mai sentito Nominare Vanno a prenderlo Miyagi Era il primo Giapponese Che Sorge Aveva reclutato Nella sua rete Lo vanno a prendere Lo portano alla polizia Mentre lo torturano Si butta da una finestra Del commissariato di polizia Cose che succedono In tutti i paesi Come vedete Non riesce ad ammazzarsi Si rompe una gamba Lo vanno a riprendere Lo riportano su Il giorno dopo Comincia a fare i nomi Denuncia a Sorge Denuncia a Ozaki Denuncia Max Clausen Forse anche senza questo Sorge non sarebbe durato Così a lungo Perché in realtà È venuto fuori Dagli archivi di Berlino Che nel 1940 Il partito nazista Bontà sua Riscavando Fra le vecchie scartoffie Aveva ritrovato Qualche informazione Sul fatto che Sorge Era un comunista Da giovane E si erano un po' Insospettiti Però la Gestapo Schellenberg Comandante della Gestapo Aveva preso informazioni E questo Sorge Era veramente Un uomo così prezioso Un nazista fedele Amicissimo Del nostro ambasciatore Che dice che Quest'uomo Gli serve moltissimo Insomma Schellenberg Capo della Gestapo Aveva detto No vabbè Questo Sorge Lasciatelo stare Insomma Aveva solo detto All'ambasciatore Ott La Gestapo Senza compromettersi E senza fare nomi Tieni d'occhio Però la gente Che ha intorno Mi raccomando L'ambasciatore Ott Si era preoccupato Che ci sia una talpa All'ambasciata Non l'aveva detto A nessuno Tranne al suo Migliore amico Il dottor Sorge I tedeschi Si fidavano di Sorge Talmente tanto Che quando la polizia Segreta giapponese Va ad arrestarlo La prima cosa Che succede E che l'ambasciata Tedesca protesta Protesta ufficialmente Contro l'arresto Di un illustre membro Della comunità tedesca A Tokyo E l'ambasciatore Ott Va a trovarlo in prigione E per parecchio tempo L'ambasciata tedesca Fa pressioni Sui giapponesi Perché Sorge Si è rilasciato Deve essere un errore Sicuramente Quanto all'opinione Pubblica giapponese Da quel poco Che viene a sapere Dai giornali Si convince Che Sorge È stato arrestato In quanto spia tedesca Perché Anche fra alleati Ovviamente Ci si spia Insomma I tedeschi Si fidavano Totalmente Come disse Sorge A suo tempo Credo di menarli Tutti per il naso Quando poi La verità vera Verrà fuori A Berlino Il capo Della Gestapo Schellenberg Sarà convocato Dal suo superiore Heinrich Himmler Con cui avrà Disse lui Un colloquio Molto spiacevole Sorge e Ozaki Vengono arrestati E processati Un processo lunghissimo Meticoloso Che dura anni Durante il quale Scrivono moltissimi Memoriali Per spiegare La loro posizione Tutto materiale Che esiste Ed è stato studiato È una vicenda Anch'essa A suo modo Straordinaria Un interrogativo Che subito Ci si è posti Ovviamente Ma li hanno torturati Non è facile rispondere Perché il Giappone Era uno stranissimo Paese La polizia militare La Kempe Itai Si sapeva Che torturava Selvaggiamente La Gestapo Giapponese La toccò Torturava Ma con più attenzione Gli stranieri Di riguardo Magari no La magistratura Questa è la cosa Pazzesca Era indipendente Serissima Faceva rispettare Le leggi E la magistratura Giapponese Per tre anni Ha interrogato Sorge e Ozaki Con estrema gentilezza E estrema attenzione Verbalizzando Tutte le loro dichiarazioni Con un grande formalismo Sembra probabile Che non siano stati Torturati I loro due Altri dei loro agenti Forse sì Se dobbiamo basarci Sul fatto che Molti sono morti In carcere Hanako L'amante di Sorge Va a trovarla La polizia Decide subito Che effettivamente Lei non capisce Niente di politica Probabilmente Il maschilismo Giapponese Qui aiuta E quindi Lei poveretta Non c'entra niente La lasciano in pace Sorge rimane dunque In prigione Per anni Durante i quali Ha dei colloqui All'inizio Con l'ambasciatore Ott Che poi però Suppongo Non si è più andato A trovarlo Con Hanako Che va a trovarlo Regolarmente Riceve giornali E in grado Di seguire L'andamento Della guerra L'uomo Che aveva pianto Il giorno Dell'attacco tedesco All'unione sovietica A un certo punto Viene informato Della resa Dell'armata di Paulus A Stalingrado E quel giorno Fu visto Che ballava di gioia Nella cella Alla fine Dopo tre anni I magistrati I procuratori Un intero staff Di procuratori Che li hanno interrogati Arrivano a processo E a sentenza Sorge E Ozaki Sono condannati a morte Soltanto loro Tutti gli altri Sono condannati A lunghe pene detentive Ma pochi mesi dopo Gli americani Entrano a Tokyo E aprono le porte Delle prigioni Chi è ancora vivo Esce Max Clausen Per esempio Esce Bisogna dire Che Max Clausen Se l'era cavata Anche perché Unico Aveva rilasciato Al procuratore giapponese Una dichiarazione In cui diceva Che lui era venuto In Giappone Pensando che fosse Un paese nemico Dei lavoratori Ma si era sbagliato Il Giappone Ha il governo Più sincero E amico del popolo Che lui abbia mai conosciuto Queste cose I giapponesi piacciono Max Clausen Non viene condannato a morte Gli americani Lo fanno uscire E se n'è poi andato Con la moglie A vivere In Germania Est Invece Sorge e Ozaki Erano stati impiccati Il 7 novembre 1944 Di tutti e due I procuratori Che li avevano interrogati Per mesi Per anni Hanno lasciato Una testimonianza Estremamente rispettosa I funzionari I funzionari Del Toko Che avevano interrogato Per cinque mesi Ozaki Scrissero nel loro rapporto Che lui aveva accettato Di collaborare Con Sorge Perché lo considerava Un incarico Onorevole E il Giappone È uno strano paese Da noi Uno che fa Una vicenda di questo genere Sarebbe considerato Un traditore E abborrito Invece i giapponesi Ammirano quelli Che muoiono Per le loro idee Ozaki È un personaggio Famoso in Giappone E nel dopoguerra Era quasi Una specie Di eroe nazionale Subito dopo la guerra Sua moglie Pubblicò un libro Con le lettere d'amore Che Ozaki Le aveva scritto Dal carcere Il titolo è L'amore Come una stella cadente E questo libro È rimasto in Giappone Un best seller Per anni Quanto a Richard Sorge Ica Per gli amici Continuò fino all'ultimo A essere l'uomo Che piaceva a tutti Il procuratore Yoshikawa Che aveva condotto Il suo interrogatorio Dichiarò In tutta la mia vita Non ho mai incontrato Un uomo Di tale levatura Grazie Grazie mille A domani Per chi ci sarà Grazie mille